oggi voglio immortalare un miracolo abbiamo un fazzoletto che si trova dall'altra parte della canna attenzione perché basta un attimo che il fular passa all'interno della canna ma un miracolo di solito non si dovrebbe mai perdere ma questo fazzoletto si trova dall'altra parte della canna eppure in un attimo passa magicamente attraverso la nostra canna attraverso potrebbe essere anche la canna tipo del microfono del cavalletto o fai te l'importante è che te magicamente sia in grado di prendere un fazzoletto e farlo passare attraverso la canna un miracolo di mille mille accendini